La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, torna sul protocollo di intesa firmato da Consorzio Asi e Provincia di Salerno per la realizzazione di un hub agroalimentare al posto dell'ex interporto. Un tema caldo sul quale la sindaca chiede il coinvolgimento prioritario del comune di Battipaglia. Non è la prima volta che il presidente della provincia lo fa, probabilmente in buona fede, ma deve imparare, come tutti quanti gli altri, che a Battipaglia esiste un sindaco. Un sindaco che ha l'obbligo di difendere quelli che sono i diritti, anche è un governo scelto democraticamente. E quindi è un sindaco che ha il diritto di governare il territorio. Non si può discutere di Battipaglia senza che il sindaco di Battipaglia sia presente, che rappresenti la comunità. E la devono smettere, perché poi, a parte, io mi sono sentita con Canfora, insomma, ma ci sarà la possibilità di... Non è quello il problema. Sono atti molto gravi e penso che questa comunità, ora, tutti devono capire che bisogna cambiare pagina. Questo è il senso che vogliamo. Non si discute niente e non si attua niente se questo comune non è coinvolto, ma se la cittadinanza tutta non è coinvolta. La questione dell'interporto, bisogna dire, finalmente ci si rende conto, se questa variante di cui si parla ci fosse stata prima, probabilmente non ci sarebbe stata la sentenza agrifina. Per cui queste cose si fanno in accordo col comune, anche perché poi tutto ciò che è atto urbanistico va portato in Consiglio Comunale, è quello che voglio dire a qualche funzionario della provincia, che poi parla sui social. Io non so se questo è corretto, perché lo trovo di una scorrettezza unica. E quindi io dico a queste persone di imparare come ci si comporta verso le istituzioni. Con il presidente Visconti noi ci siamo sentiti, avevamo iniziato già un buon lavoro e con lui ci vedremo dove eravamo rimasti. Noi ci siamo visti con i rappresentanti della CGL, con Arturo Sessa. Il problema è di salvaguardare l'imprenditoria sicuramente, perché vuol dire posti di lavoro, e di trovare un accordo su come risolvere questa questione ASI. Noi siamo fuori dal consorzio ASI, ma questo non vuol dire che siamo fuori dal controllo di quell'area. E quindi insieme bisogna superare quelle che sono stati ormai delle difficoltà, e se ci si pone su questa condizione non si va da nessuna parte. Ci eravamo incontrati anche in regione, dove dovremmo successivamente ritornare, e mi sembra quello che abbiamo detto con Visconti. Bisogna partire da lì. Se vogliamo andare avanti e fare qualcosa per questa città, bisogna partire da lì. Abbiamo tutti gli interessi perché venga attuata la ZES, per cui imprenditori che sto già ricevendo, imprenditori anche stranieri, che vogliono investire su questo territorio.